Dopo 22 anni di pubblicazioni e dopo alcuni anni di stop, la rivista Civiltà Bresciana è pronta a ripartire con una nuova serie, che è stata presentata nella serata di martedì 29 gennaio, proprio nella sede della Fondazione, gremita per l'occasione. Abbiamo ritenuto fondamentale per la Fondazione Civiltà Bresciana ricominciare a pubblicare la rivista, considerandolo uno strumento essenziale di dialogo e di promozione culturale. Ecco come sarà per il suo ritorno la rivista e quali sono le novità principali. L'abbiamo immaginata come una rivista che sia nello stesso tempo scientifica e divulgativa, perché vogliamo che le ricerche che i nostri studiosi portano avanti possano essere messe a conoscenza e apprezzate da un pubblico vasto. In questo senso abbiamo rinnovato il comitato di redazione, il comitato di redazione della rivista, affidato a alcune persone, a Massimo Tedeschi, a Enrico Valseriati, a Luciano Anelli e ad altri collaboratori a cui siamo davvero grati. Ci auguriamo di poter uscire con una cadenza semestrale, perché ci pare importante che la rivista abbia una certa regolarità nell'uscita e ci auguriamo anche che poi possa accogliere i contributi di altre persone che possano trovare interessante questa collaborazione e possono avere qualcosa da offrirci in termini di collaborazione.